Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella in lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Ciao ciao a tutti ragazzi sono Sergio Aden e bentornati sul mio canale Allora quando ho visto questa cosa ho detto ci devo fare subito il video cioè è incredibile Allora guardate qua siamo con 0 dollari Siamo con 0 dollari Siamo nel punto dove abbiamo fatto appena il colpo alla Mayweather E quindi l'estero probabilmente ci deve ancora pagare Insomma mi sono un po' attrezzato prima di fare questo video e ho detto ma proviamo a comprare i vestiti Niente, proviamo a modificare i veicoli Niente Proviamo a completare le proprietà Figuriamoci Ho detto ma Invece di prendere il taxi Il tassista non lo può sapere Se noi siamo poveri o no Allora Non ho ancora preso il taxi Con 0 dollari Lo faccio con voi per il modo di tenere la sorpresa Allora chiamiamo il taxi Ho bisogno di prendere il taxi Aspettiamo il taxi Aspettiamo il taxi Avete pure visto la nostra macchina Macchina suscettiva perché Michael si è portata via Il figlio Jimmy Eccolo Eccolo Fermati Ora Andiamo a andare in un punto Lontano E provo a mettere il segnalino qui Vediamo se me lo prende Meta Mettiamo anche fretta E saltiamo il viaggio Con Seguente cosa addizionale Tanto che è carica Non so cosa possa succedere Perché Con 0 dollari Insomma questa è una cosa Anche da 60 70 dollari Visto anche il costo addizionale Addirittura Ho visto i pezzi di taxi Guardate siamo ricercati Siamo ricercati E non possiamo neanche più Chiamare il taxi vecchio Qui L'unica cosa da fare È Svignarsela A gambe A gambe Siamo che da A palito bay Non voglio dare rato E qui Michael Comincia a correre Comincia a correre Ora magari Siamo di non contare un puma Molto affamato ragazzi Guardate qua Ci hanno ricercato Per non aver pagato Una corsa del taxi Però comunque ragazzi Danno Una stellina sola Quindi non è tanto grave La cosa Cioè come fa Ad andare lì Il taxi Alto della polizia Cioè è sulla montagnetta Non ci vanno mai le macchine Guardate qua La polizia è scomparsa Noi siamo fatti La gita In taxi Gratis Vi chiedo subito Di lasciare un like E di iscrivervi Che ora Vi chiudo il video E noi ci vediamo Alla prossima Con I nostri Episodi Di nostre campagne Dei giochi Ma anche se avete qualcosa di strano Da proporre Scrivete nei commenti Io provo In qualche modo A portarvelo Cosa di curogia Che non sapete Che volete provare Ciao a tutti ragazzi Grazie della visione E alla prossima Bye bye Ciao a tutti